amici di flash sport buonasera dal centro sportivo maniampama di guidonia 14esima giornata del girone e di serie di con il palombara primo in classifica che ospita il pentaroma un saluto da marco reda simmi cura da campolo perde il pallone di luca davanti al portiere lo calcio addosso lauer cross basso respinto allontanato il pallone da turchi contropiede del pentaroma campolo può andare davanti alla porta di donato contropiede del palombara di donato serie di dribbling allarga per lauer il tiro la parata corner per il palombara il sinistro pallone sul fondo lauer di donato si fa vedere salvatori e luca scarica dal numero 8 bianco rosso salvatori per un attimo pensa al tiro allarga in direzione di di donato anche lui finta la conclusione lauer dribbling secco di lauer passaggio per deluca limite dell'aria deluca può andare da solo cerca il fondo di fisico respinta della difesa poi salvatori buono suggerimento per lauer il tiro di lauer in anticipo di lauer poi di donato scarica sulla destra per lauer pallone basso lo verano ci sono maglie bianco rosse di donato la respinta poi il destro che spiega il palo di massimo di deluca simmi contro lauer simmi contrastato puglisi a difendere il pallone poi attaccato alle spalle di battista che conclude parapollione di luca davanti al portiere scava il e c'è il vantaggio del palo in bala 1 a 0 con il tocco sotto la mente dentro deluca deluca vancù e spacca la porta con un destro potentissimo 1 2 in 60 secondi ancora deluca 2 a 0 chi ritaglia lo spazio per tirare lauer ma sull'esterno lauer il destro perché sfiora il palo deviazione calcio d'angolo tapia di donato tiene il pallone in campo nato vada solo di donato dribbling del numero 4 rotondo mette in calcio d'angolo e sventa l'azione personale di di donato di donato per me ucci di nuovo di donato tapia pasquarelli qual è la porta tapia la piazza attacca attacca l'intervento di rotondo per la balla resta di pasquarelli col taglio fa un gran gol il 3 a 0 numero 20 campo con la conclusione da fuori sul fondo ci prova anche il pentaroma con le soluzioni della distanza di donato in dribbling che se ne va di donato grande a 0 4 a 0 sale in cattedra di donato e fa un grandissimo gol del poker palombara pallone basso per belloni chiude tutto simi riparte il controverso del pentaroma con simi pollione salvato dal palo simi ancora il numero 10 turchi una giocata per simi poi capisce tutto l'hour ma petrocchi non controlla quindi rimessa in favore del pentaroma la va a rubare però questa palla petrocchi per concludere di prima costringendo rotondo all'intervento un calcio d'angolo che però riconsegna il pallone al pentaroma evidentemente sapeva di essere stato lui a toccare per ultimo gesto di sportività quello del numero 9 è andato a referto quest'oggi con una doppietta va ad andare da solo pesciocchioli perde il pallone attenzione di donato rientrato lo recupera pallone basso il crosteso per salvatori sull'assist di donato de luca salvatori 5 a 0 palombara tapia per salvatori non si intende attenzione salvatori forse tocca il pallone con un braccio calcio di rigore per il palombara finto a terra salvatori va tapia col mancino la tocca rotondo ma il pallone si insacca 6 a 0 va in gol anche il numero 11 deve tornare dietro di donato da de luca si può vedere tapia ecco il numero 11 tapia giocata per salvatori ancora per tapia la combinazione ancora una volta frutta il gol 7 a 0 e doppietta per tapia il miracolo di sgrulloni campolo arriva di donato esce dalle retrovie numero 4 fa tutto da solo viene fermato non c'è fallo contropiede fresa 1 contro 1 con tapia se ne va fresa contro sgrulloni fresa pallone fuori tapia pasquarelli perde il pallone poi fresa difenderlo lo fa molto bene il numero 9 nero arancio poi campolo a cercare Simbi in mezzo a 4 Simbi col destro gran parata di sgrulloni poi interviene anche a togliere il pallone dal sinistro di Turchi pasquarelli sulla sinistra per di donato continua a correre a giocare ad andare forte il palombara sul punteggio di 7 a 1 arriva adesso il triplice fischio dell'arbitro palombara batte tenta roma 7 a 1